Padre Luca Bucci, bioticista e cappellano dell'ospedale di Rapallo. Quali sono i punti sui quali si insinuano le maggiori difficoltà anche di informazione della legge che prevede il consenso informato e i cosiddetti DAT? Credo che il punto di confusione che dobbiamo chiarire di più a vantaggio degli eventuali pazienti sia il fatto che sembra che queste direttive previe si debbano fare, si debbano scrivere, che si debba scrivere un documento. In realtà non c'è nessun obbligo di scrivere le direttive anticipate di trattamento, piuttosto sarebbe bene invitare le persone a un dialogo medico-paziente fiducioso, importante, consistente, che trovi davvero il meglio per le persone che soffrono. Si può attraverso una legge stabilire un confine tra quello che viene considerato un accanimento trarapeutico e l'inizio invece di un percorso eutanasico? Ma una legge è sempre generale e quindi non scende nei casi particolari. I casi particolari vanno analizzati ognuno per quello che è il percorso anche psicologico della persona, per non dire spirituale, e poi naturalmente il percorso della malattia fisica vera e propria che può richiedere in momenti diversi anche strutture terapeutiche diverse o modalità terapeutiche diverse. Non si può generalizzare mai. Ci sono degli elementi positivi nei contenuti di questo testo normativo? Io credo che l'elemento positivo maggiore sia quello di un invito al dialogo medico-paziente, al consenso informato, a sviscerare bene quello che è il momento della malattia, cosa comporta per riuscire a decidere quello che è il vero bene del paziente in quel momento. Certo, la legge stessa dice che questo è una cosa preziosa che però non può essere monetizzata, quindi in qualche modo la legge capisce che c'è un valore qui, ma che in realtà forse a volte i problemi sembrano essere più sui costi che non sul valore della persona. Perfetto, benissimo.